L'Abruzzo punta alla conferenza dell'ONU che si svolgerà a Parigi. Il tema è quello sui cambiamenti climatici, un tema delicato che ormai coinvolge tutto il mondo e che solo in Abruzzo ha già provocato grandi preoccupazioni e danni ingenti anche di recente. Sulla scorta dell'esperienza che noi abbiamo maturato fin dalla partecipazione al COP20 a Lima lo scorso dicembre e sull'attività che poi abbiamo messo in campo proprio per quanto attiene il discorso dell'adattamento ai cambiamenti climatici ha accreditato l'Abruzzo come una regione leader, tant'è che siamo l'unica regione a organizzare degli eventi. Ne organizzeremo sette, due per conto del Ministero e le altre regioni partecipanti saranno nostri ospiti come la Lombardia e la Basilicata. La nostra partecipazione si concretizza con l'implementazione di alcune politiche tese alla piena consapevolezza che il tema delle rinnovabili, quindi la produzione energetica da fonte non fossile, debba diventare un elemento cardine nello sviluppo sostenibile del nostro Abruzzo. Nella programmazione prossima si sta tenendo questo fatto in debita e considerazione e nella consapevolezza che questo fatto, non più previsione ma ripeto fatto, è ormai assunto caratteri di ineludibilità. E d'altro canto la prova che noi abbiamo purtroppo dovuto fare sul campo fin dall'emergenza del marzo scorso lo sta ad attestare.